Esotio da incorniciare per il Casarano di Colabuighe che al vicino batte il Gravine e parte subito col piede giusto in stagione. Tanto cuore per la squadra di Summaragone invece che soffre moltissimo le ripartenze di qualità dei Salentini e resta anche in 10 troppo presto per provare a rimettere in piedi la gara. Ma andiamo con ordine. Tedesco Prinare D'Ambros, tridente e mobile per il Casarano contro il 3-5-2 di casa con Diop e Lautaro che però si fanno vedere poco. Neanche 4 minuti di gioco ed è D'Ambros da destra a credere nel cross con il vero di Pipistrelli e il tiro preciso di Prinari che è glaciale. Nell'infinare il pallone sotto il 7 della porta difesa da vicino soffre davvero tantissimo il Gravina in inferiorità di risultato sul fronte destro difensivo e il Casarano prova a dilagare. Sempre con D'Ambros, bravo, questa volta a servire Tunkara che tutto libero, calcia però altissimo. La risposta dei padroni di casa e nei piedi del suo capitano è duomo forse più esperto. Chiara Dia direttamente su calcio di punizione mette i brividi al giovane Gianni. Il Casarano però trova con continuità la porta difesa da vicino e l'ispiratissimo Prinari a restituire il favore. Questa volta D'Ambros che a due per due con l'estremo difensore di casa si fa murare. La conclusione se si accetto a una protesta di casa per un presunto fallo su Borgia nel cuore dell'area di rigore non decretato dal direttore di gara. E ancora il Casarano a costruire una palla a gol clamorosa attorno al venticinquesimo. Pipistrelli si libera bene in area ma il suo tocco sulla disperata uscita di vicino finisce clamorosamente alto. E D'Ambros la vera spina nel fianco del Gravina. Prima ci prova con un tiro da posizione defilata ben intercettato da vicino poi diventa ancora una volta assist man. Questa volta per Tedesco che di testa anticipa tutti ma è ancora l'estremo difensore di casa a mantenere in vita le speranze murgiane. Lautaro allenta la pressione ospite con un tiro dal limite che finisce sul fondo. Nel minuto di recupero può piovere sul bagnato per il padrone di casa con l'espulsione diretta di Tudinetti per una presunta manata a Prinari. Pronti via e dagli spogliatoi torna nuovamente un casarano più determinato che con il migliore in campo. D'Ambros trova immediatamente il raddoppio dopo un'imbucata della difesa di casa. Nulla può il neoentrato portiere di casa all'Iso. Il raddoppio e formazione di Colabuig in controllo con Prinari che ci prova ancora dal limite. Il giovanissimo estremo difensore di casa è bravo a disimpegnarsi in due tempi su D'Ambros e poi sul tiro di Tedesco. Chiaradia spezza il monologo ospite con un tiro da buona posizione troppo facile per gli anni. Di Modugno però da poco arrivato a Gravina trova il gol che accorcia le distanze con un colpo di testa preciso che beffa gli anni. Il forcing finale dei padroni di casa del tandem su Maragone tuttavia non produce gli effetti sperati anche se in dieci uomini il casarano controlla e porta a casa i primi tre punti della stagione. Ora sarà tempo di doppio derby della Murcia per il Gravina. Mercoledì al vicino contro l'Altamura per la Coppa. Domenica al D'Angelo per la seconda giornata di campionato. I salentini invece saranno impegnati prima in Coppa contro il Nardò e poi in casa contro il Biceglie.